ciao a tutti oggi realizziamo insieme dei simil grisby ingredienti di cui avremo bisogno sono nutella farina e un uovo aggiungiamo alla nutella la farina mescoliamo con un cucchiaio quando la farina avrà assorbito tutta la nutella andiamo ad aggiungere l'uovo aggiungiamo l'uovo mescoliamo e trasferiamo il nostro composto sul piano di lavoro impastiamo fino ad ottenere una sorta di frolla liscia ottenuto il panetto se è troppo morbido lo facciamo riposare mezz'ora in frigorifero stendiamo la frolla dello spissore di 3-4 mm con un coppapasta ricaviamo dei dischi farciamo i dischi con un cucchiaino di nutella e quindi andiamo a sovrapporre con un altro disco per chiudere sigilliamo bene i bordi e chiudiamo con un coppapasta più piccolo ecco fatto il crispy realizzati i nostri crispy adesso li andiamo a infornare a 180 gradi per 10 minuti i nostri biscotti ripieni di crema spalmabile sono pronti adesso li facciamo riaffreddare e poi vi faccio vedere l'interno i nostri biscotti sono freddi e adesso vi faccio vedere che la nutella all'interno è ancora morbida guardate ciao a tutti e grazie di aver seguito anche questa video ricetta ciao